Presentato a Palazzo Fulcis il Festival Internazionale di Musica Antica, Arte e Musica tra Pelmo e Civetta che tra venerdì 24 luglio e domenica 23 agosto porterà nelle chiese zoldane di Fusine, Pieve e Brusa Daz nove proposte musicali gratuite. In questa terza edizione, come sempre, l'obiettivo è quello di valorizzare diversi patrimoni contemporaneamente. La musica, gli organi certamente, quindi il recupero degli strumenti storici, la valorizzazione degli strumenti storici e certamente anche l'arte. Ricordiamo che verrà presentato durante il festival anche il restauro di due pale d'altare importanti di Koi e di Brusa Daz con concerti specificamente dedicati a questi restauri. Quindi, insomma, sono tanti gli aspetti che questo festival vuole toccare. Un festival che si deve al sostegno della Fondazione Cari Verona con la partecipazione del Circolo Culturale Bellunese e della Fondazione Antiqua Vox di Treviso e il Comune di Zoldo. E naturalmente anche il sostegno della Diocese di Belluno Feltre che ha reso possibile lo svolgimento di questi concerti nelle chiese maggiori dell'Auzoldano che sono quelle di Pieve, di Zoldo e di Fusine e dove è possibile anche praticare un distanziamento. Il consiglio è quello di decidere per tempo consultando il programma che si può trovare sul sito del Circolo Culturale Bellunese e poi prenotare il proprio posto. Tutti gli appuntamenti verranno raddoppiati per rendere possibile al più vasto pubblico l'affluenza. Quindi avremo due concerti, uno alle 17 e alle 19. Si raccomanda naturalmente al pubblico di prenotare per poter accedere ai concerti perché chiaramente questo è un fatto ineludibile visto che i posti sono poco più di una cinquantina per ogni ambiente.